Ciao a tutti ragazzi, ho deciso di inaugurare questa rubrica in cui parliamo dei ministri del nuovo governo giallorosso. Li analizzeremo uno per volta, quindi avremo un sacco di video insieme. Il primo ministro che ho deciso di prendere è sicuramente un nome che non era noto prima che diventasse appunto ministro, ma aveva sicuramente una delle posizioni più, dei ruoli più difficili. Parlo proprio di Luciana Lamorgese, l'unico tecnico di questo governo giallorosso, è laureata in legge. In questo video spiego perché è un elemento di completa discontinuità con Matteo Salvini e quindi col precedente governo. Bene, Luciana Lamorgese è un elemento di discontinuità per una serie di motivi. Innanzitutto lei ha un percorso lontano dalla politica. Il momento in cui si avvicina di più all'aspetto politico succede quando diventa capo di gabinetto del ministro dell'interno, con Alfano nel 2013 e poi con Marco Minniti. Quindi ha un quinquennio già di esperienza all'interno del ministero dell'interno, dopodiché diventa prefetto di Milano. Ed è in questo periodo che si mette in luce proprio la sua figura. Infatti è una delle prime durante la prima grande crisi migratoria nel 2015 a creare degli hotspot, dei centri di accoglienza per i migranti richiedenti asilo, ma nello stesso anno effetta più di 100 sgomberi di migranti irregolari. Quindi è una figura in qualche modo molto ligia, molto precisa e che sembra non farsi influenzare dalle diverse correnti politiche, ma che ha in mente solo di cercare di fare il meglio sia per i cittadini italiani sia in qualche modo in un aspetto più umano rispetto a quello a cui eravamo abituati con Matteo Salvini. Però per questo motivo è stimata dalle associazioni e dal terzo settore che sicuramente ne fa un altro elemento di discontinuità con Matteo Salvini. Infine è un personaggio molto, diciamo, che non ama stare sotto i riflettori, non ha alcun social attivo e, diciamo, non è interessata, almeno per il momento, a utilizzare i social network a mo' di propaganda elettorale continua. Ecco, è fra l'altro di pochi giorni fa la notizia che insieme ad altri circa una decina di ministri dell'interno dell'Unione Europea hanno preparato una bozza chiamata appunto per il momento trattato di Malta. È una bozza, quindi non è assolutamente ufficiale, non è entrata in vigore, ma che consentirebbe la ridistribuzione dei migranti che arrivano sul territorio appunto europeo. Se così fosse, si può dire che la morgesia ha dato sicuramente prova di essere competente, di avere bene in mente quello che vuole fare, di capire qual è il problema migratorio e soprattutto la sua soluzione non sono i rimpatri, ma la decisione di ridistribuire i migranti in modo tale che non possano pesare in qualche modo su un'unica nazione, ma cercare di condividerli all'interno di quelli che sono i confini europei. A mio modesto modo di vedere le cose mi sembra un ottimo approccio, almeno per il momento, e devo dire che nonostante personalmente la nascita di questo governo non mi piacesse, la scelta di Luciano Amorgese mi pare azzeccata. La domanda è, riuscirà il tecnico, la Luciano Amorgese, a rispondere a un'emergenza che spesso troppo, che troppo spesso i governi precedenti hanno sottovalutato, io credo di sì, ma non ci resta che attendere. Grazie mille per aver visto questo video, seguitemi anche su Instagram e soprattutto commentate che è la cosa più bella e divertente. Grazie a tutti, ciao!